buonasera ragazzi bentornati sul mio canale ben ragazzi oggi la vigilia di natale quindi questo video si rivolge principalmente agli auguri quindi lasciamo perdere discorsi vari poi si riprenderanno poi adesso aspettiamo con la partita di terni quindi niente io questo video è semplicemente per darvi gli auguri gli auguri più sinceri che potete anche insomma che possiate trascorre natale in famiglia sereno con le ragazze ragazzi insomma via discorrendo ecco perché mi pare giusto io di solito faccio un video augurale ma non riesco perché ho veramente pochissimo tempo disponibile quest'anno perché sono qualche problemino ma ma risolvibile insomma ecco quindi quindi niente quindi faccio questo questo breve video e vorrei nominare qualcuno insomma ecco quindi faccio parte subito alessio grazie alessio emanuele andrea paolo fabio leandro giorgio eoni mike emiliano maurizio schiacciaficieli giovanni manenti e il mitico matteo questo è poi sono quelli che diciamo partecipano più spesso partecipano ai commenti eccetera ci sono altri quindi è chiaro che è rivolto a tutti a tutti gli iscritti in via principale e poi un abbraccione veramente forte forte perché ho nominato che sono diciamo ragazzi che si interfacciano di più nel senso ma non perché gli altri avete visto poi questo canale nato principalmente per cosa per dire le cose come stanno poi uno si si sbaglia uno se magari dice una cosa uno viene corretto e poi insomma è bello il dialogo no perché uno dice come la pensa poi alla fine è sempre forza pisa è chiaro questo è fuori discussione fuori da ogni dubbio bene io rinnovo veramente gli auguri che possiate passare natale felice sereno in famiglia con tutti e grazie a voi il canale cresciuto e poi io farò video augurale a fine anno rivolto alla città bene io rinnovo di nuovo gli auguri mi auguro veramente che possiate trascorrere natale felice e sereno compagnia dei parenti più cari io la chiudo qua la chiudo qua un abbraccio vi abbraccio tutti veramente dal primo all'ultimo grazie e ci vediamo il 26 di dicembre nella speranza di passare un secondo giorno di natale un santo stefano piano di gioia e serenità che il nostro pisa ci fa ci faccia diciamo così gioire bene io mi fermo qua di nuovo auguri e auguri a tutti se vi è piaciuto questo video pollice su iscrittemi al canale se ancora non l'avete fatto io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa buon natale